Anche ieri una bella litigata in live su TikTok, qui passano le amicizie, ma comunque si era così dai. Russi cerca, sì, no ma però voglio dire, io posso dire questo, quando tu non hai argomenti, erano tre donne, un uomo, poi l'uomo praticamente mi hanno sempre insultato, cioè praticamente loro erano del sud, no? Va bene, calabresi, non so di dove. È arrivato l'uomo, il protettore, mi ha insultato tutta la live. Cioè, qua parliamo di invidia, gelosia, io non ho detto niente, io praticamente parlavo, ovviamente una in pijama, gli ho detto, ma la mattina ti metti la maglia, ma fine? Poi cos'è che è venuto fuori? Se l'avete una vita oltre TikTok, perché io ho l'impressione che molte live non abbiano una vita, cioè non hanno una vita, loro stanno solo su TikTok la notte, la mattina si alzano, il maritino lavora, poi vengono a dire a me, ma io ho mantenuto, ma io vivo nella semplicità e nella povertà, non vado al ristorante, non nuoto in mare, mi vesto con i vestiti del discount, mangio la roba del discount, roba buona però, roba buona, roba sana, ma da in Italy.